Questa settimana continua a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese che si fissa intorno a 37 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT rimane stabile a 0,83 e quindi ben al di sotto dell'unità e questo naturalmente è un dato positivo. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 5,5 e al 4,6%, quindi molto al di sotto della soglia critica. Nel nostro Paese la situazione epidemiologica in questo momento è buona, migliore di altri Paesi e questo sembra essere il frutto di un combinato disposto fra una campagna di vaccinazione di successo e dei comportamenti individuali che continuano ad essere ispirati alla prudenza.